Si riapre l'interrogativo sul futuro di Alitalia. Questa mattina la Repubblica ha scritto di un interesse da parte della Russa Airflot per il gruppo della Magliana. Secondo il quotidiano la compagnia russa avrebbe mostrato interesse per Alitalia, ma l'indiscrezione è stata smentita dal vettore aereo, che ha precisato di non aver avuto alcun contatto preliminare con Alitalia per un'eventuale alleanza. Bocche cucite nel quartiere generale della compagnia di bandiera, che non si esprime sull'ipotesi. Sulla vicenda invece è intervenuto Enrico Letta. Il presidente del Consiglio ha dichiarato che il futuro di Alitalia deve essere all'interno di una grande alleanza internazionale e senza una logica di emergenza. Attualmente Alitalia, già salvata nel 2008 dal governo, è controllata al 25% dal France-KLM e partecipata da Intesa San Paolo, Atlantia e Insi. Grazie per la visione!